Cate, lo abbiamo detto prima mentre presentavamo le maglie, il clima è l'arma in più di quest'anno? Diciamo, sicuramente il clima, sicuramente l'atmosfera, il gruppo di lavoro, sia quello tecnico sul campo, sia quello negli uffici. Diciamo che quest'anno la squadra con l'inserimento di MET diventa certamente più competitiva. L'atmosfera fa sì che tutti abbiamo più fiducia, più voglia di combattere e anche di provare a vincere, certo. Una promessa, se puoi farla al pubblico di Modena, è una richiesta invece che hai per il pubblico o per la città? Beh, la promessa è che ci divertiremo sicuramente, quest'anno sarà veramente, credo, un campionato divertente. Una richiesta non saprei perché è più di così al pubblico di Modena, io non mi sento di chiedere se non magari di aiutare il passaggio da una colonna come Antuana al nuovo speaker. Ho letto che così c'è un po' di polemica perché non è di Modena, ma ragazzi sostituire Antuana non è come dirlo. Quindi questo ragazzo è pieno di passione, io l'avevo sentita a Verona, sicuramente è un'altra persona, quindi sarà diverso e soprattutto Antoine rimarrà ineguagliabile. Quindi credo che dovrà trovare la sua cifra, il suo stile e tutti noi, tutto il palazzo dovrà cercare di farlo sentire accolto e sostenuto. Un'ultima battuta è la tua settima stagione, al timone di crisi però ne hai già passate abbastanza, non hai paura di quella del settimo anno? Diciamo che sono passate in mezzo a moltissime tempeste, speriamo che non arrivi quella perfetta.